Benvenuti, sono WarioFies85 e oggi inauguriamo una nuova rubrica. Con questa nuova rubrica vorrei inaugurare una nuova serie di vlog che hanno a che vedere col cinema. Allora, cosa farò? Probabilmente farò anticipazioni su film particolari che naturalmente mi piacciono, come è il caso del vlog di oggi, e recensioni di film. Saranno sia naturalmente film belli che film, diciamo, meno brutti. Dipenderà, diciamo così, da quello che guardo, che cosa comunque mi attrae. Difficilmente ammettere film che non mi hanno, diciamo così, sia nel bene che nel male attratto. Allora, oggi di cosa vogliamo parlare come primo video? Allora, iniziamo la nostra rubrica sui film con la questione Prometheus. Prometheus barra, diciamo, Alien. Allora, tutto è cominciato col primo Prometheus. Allora, inizialmente Prometheus, che sarebbe questo, era chiamato prequel di Alien. Poi, Ray Ray Scott, in un'intervista, disse che non voleva fare un prequel di Alien. Cioè, proprio lui lo disse chiaro e tondo. Infatti, poi, il film si rivelò un film quasi interamente a parte, se non con delle piccole citazioni così, è l'apparizione di questo Alien primitivo alla fine del film. Tutto il resto, se non la Weyland, è un personaggio che è il capo della Weyland, tutto il resto era completamente diviso da Alien. Il film, piacque e non piacque. Io ho letto qualcosa di recensioni di film ed erano molto divise tra chi diceva che tutto sommato era un film noioso, troppo lungo, dalla trama per certi versi anche scontata, e via dicendo. Io personalmente, cosa posso dire? Io personalmente non sono rimasto colpito tantissimo da Prometheus. È un film che mi è piacciucchiato, diciamo, era guardabile. Non si può dire che fosse proprio uno di quei film che tu stoppi e dici, basta, non lo voglio più vedere. Anche se io generalmente non sono così. Io il film lo devo vedere dall'inizio alla fine, cerco di vederli sempre senza pregiudizi. Però, diciamo, a volte, come in questo caso, uno non vorrebbe avere pregiudizi, però te li tirano fuori con le pinze. Perché? Cosa è successo? Praticamente, Raleigh Scott, quando disse, faremo Prometheus 2, lui aveva detto, io lo voglio fare Prometheus 2, ci deve essere Prometheus 2. E addirittura disse, questo Prometheus non avrà niente a che vedere con Alien. Io, questo me lo ricordo, adesso non vado, non c'è tempo di andare a vedere, comunque vi posso garantire che lo disse, Raleigh Scott. Oggi, così, girando su Facebook, mi trovo questa notizia. Raleigh Scott presenta Paradise Lost, Prometheus si trasforma in Alien. Ora, uno che ha visto già un film che non era Alien, praticamente, era un'altra cosa, era un bel film di fantascienza, però non era Alien. E ci mette un ciccinino di Alien, e va bene. Fai, dici, farò il secondo, e dici, non sarà Alien, io me ne faccio una ragione, e dico, però lo guarderò per vedere un film d'azione. Perché a me piacciono i film d'azione, mi guardo il film d'azione. Poi tutto di un tratto, Raleigh Scott mi esce, scambio il titolo del film e lo chiamo Alien, Alien Paradise Lost. E va bene, ma non finisce qui perché non è solo questo. Allora, Raleigh Scott dice, non è soltanto che è un Alien, ma sarà anche collegato ad Alien. Cioè, proprio, parla anche di Alien 5, addirittura. Cioè, ora io dico, vedete, qui dice, il filmake parla anche brevemente di Alien 5, che sarà diretto da Neil Blomkamp. Cioè, vabbè, e dice che lo sta producendo. E Scott precisa, il cambio del nome non ha causato chissà quale stravolgimento della storia. No? Raleigh Scott, spiegaci come non puoi stravolgere la storia. Se tu hai detto che gli ingegneri hanno creato gli Alien, adesso tu stai andando nel pianeta, perché è stato detto questo, nel pianeta degli ingegneri. In teoria gli Alien non ci dovrebbero essere lì. Cioè, diciamo, a rigolo di logica, almeno seguendo una linea logica, ci starebbe anche che lì gli Alien non ci fossero. Perché gli Alien sarebbero su LV416, non su questo pianeta degli ingegneri. Comunque, non si sa. E addirittura, io ho trovato altre, altre rivelazioni. Dov'era quella di... Ecco, lo dice qui. Sempre qui. Ecco, vedi, il regista pare anche aver cambiato idea circa il non voler mostrare più gli xenoforni. Penso che avrò nuovamente a che fare con loro. Vedremo chi li ha creati e perché. Sarà interessante. Io non lo metto in dubbio, però io dico questo. Come fai a non pensare che questo sia una gigantesca campagna di marketing? Secondo me, quasi, si potrebbe dire che stanno pubblicizzando Alien 5 con Prometheus. Cioè, e questo, a mio parere, è curioso. Cioè, una manovra così grande, considerando che poi Ridley Scott produce Alien 5, mi fa pensare. E cosa mi fa pensare anche di più? Io, ripeto, ho detto prima, non voglio avere pregiudizi sui film. Cerco di giudicarli, di guardarli e giudicarli. E quindi non vorrei avere pregiudizi. Però, come fai a non averli in questo momento? Poi, voglio dire un'altra cosa. Sono due i protagonisti. Cosa gli può capitare di andare in un... Cioè, sarebbe... Cioè, sarà bello anche vedere che cosa ne uscirà fuori. Però, diciamo, se queste sono... Diciamo così, le avvisaglie, Io non credo che ne possa uscire un film, un vero capolavoro per Alien. Cioè, ci vedo più un Alien 3. Non certo un Alien. Io mi aspetterei più un Alien 3. Cioè, un qualcosa che tu guardi perché ti piace la saga di Alien, però poi rimani un po' basito. Considerando che poi, la saga di Alien, ricordiamocelo sempre per quanto noi possiamo odiare Alien 3, Alien... Alien della risurrezione, è autoconclusiva. È stata una serie autoconclusiva. Quindi, ok che questo è un prequel, però... Cosa ci... Cosa ci puoi trovare? Poi, ripeto, lì sta... A chi scriverà la storia, a trovare dei collegamenti. Però, ripeto, ci voleva veramente una manovra così su un film che, secondo me, già le persone sarebbero andate a vederlo. Secondo me, così, rischi di far diventare antipatico il film. Perché? Quelli che lo vogliono vedere come film di fantascienza si scocciano, secondo me, si scocciano, perché dicono eh, ma adesso stanno facendo un Alien. A me di Alien non me ne spiega niente. Io voglio avere un film di fantascienza perché magari a me Alien non mi piace. Quelli di Alien possono anche essere contenti, alcuni. Io, per esempio, da fan di Alien sono un pochettino così quasi disgustato. Perché questo amore e odio di Bradley Scott per Alien eh, boh, a me risulta. Perché Bradley Scott o lo fa perché veramente vuole dare ancora una volta un apporto alla storia di Alien oppure lo fa per guadagnarci sopra, per lucrarci sopra. Visto la manovra mediatica che stanno facendo, secondo me ci stanno lucrando sopra e ci vogliono lucrare due volte con Prometheus e con Alien 5. Poi io spero che tutta questa campagna per quanto possa essere disvicevole per quanto possa eh diciamo così lasciare perplessi io spero che questi due film saranno dei bei film. Certo che con queste aspettative qualche dubbio c'è. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.